Ecco, sono di bravo dei ragazzi perché sono stati bravissimi a reggere la situazione. Per esempio, c'è una grande squadra, anche a tutti i miei ragazzi. Cioè, quando si perde sembra che voglia la verità, insomma. Oggi abbiamo spesso tantissimo, sotto tanti aspetti, sono stati molto attenti, sono stati bravissimi. Poi la finale, il gol di San Tiempo, ha un po' spezzato i miei libri e ci ha sicuramente messo poi anche in gara di più, ma poi lo colgo dello solo, insomma, la squadra è tutta.